E' noto, quando viene spedita una raccomandata e il destinatario non è momentaneamente a casa, il postino lascia nella cassetta delle lettere l'avviso di giacenza. E' una sorta di cartoncino contenente il codice della raccomandata e la data del tentativo di recapito. Se poi la raccomandata conteneva un atto giudiziario, il postino invia con raccomandata, anche questa volta, una seconda comunicazione, la cosiddetta CAD, la comunicazione di avviso di deposito, che serva a informare ulteriormente il destinatario del tentativo di notifica. E' proprio grazie all'avviso di giacenza immesso nella cassetta delle lettere che poi è possibile ritirare all'ufficio postale l'atto originale per prenderne visione. Vi ricordo che la raccomandata non ritirata resta presso gli uffici postali per 30 giorni, 6 mesi se si tratta di atto giudiziario, dopodiché viene restituita al mittente per compiuta giacenza e si considera come notificata, cioè produce tutti i suoi tipici effetti e voi non potete più contestare nulla.